Salve a tutti ragazzi, bentornati in Combine del Guerz, bentornati qua su EvoSmart. Oggi andiamo a parlare di robot, visto che grazie a Ecovacs sono riuscito a avere in anteprima ragazzi delle offerte pazzesche che metteranno online nel periodo del Black Friday. Chiaramente in descrizione troverete il nostro canale Telegram dove vi postiamo tutte le offerte che troviamo in rete e ci saranno già in anteprima quando uscirà questo video, ma anche nella descrizione del video stesso perché come vi dicevo hanno preparato un coupon da circa 500 euro di sconto quindi veramente un prezzone e sono contento perché almeno nel mio caso ultimamente visto che gli smartphone stanno un pochino calando come intensità, come comunque share, come hype eccetera eccetera mi sto dando, non vi nego la cosa, alla pulizia. Questo perché secondo me la tecnologia di questi robot, soprattutto nel 2022, è arrivata a livello molto molto interessante. Pensate che finalmente sono riuscito a portare nel mio appartamento di casa X1 Turbo che è il top di gamma per quanto riguarda Ecovacs, il D-Bot X1 Turbo. L'ho portato nel mio appartamento e lì secondo me sono riuscito a vedere e toccare con mano la realtà di questi nuovi robot per quanto riguarda la pulizia. In ufficio c'è stata una new entry, questo perché Ecovacs mi ha inviato X1 Omni. Cosa cambia tra X1 Turbo e X1 Omni? Praticamente sono gli stessi identici robot, quindi le funzioni sono le stesse, poi ve le dirò all'interno di questo video, ma c'è una differenza. Praticamente con X1 Omni avete a disposizione l'autosvotatura dello sporco, che è una comodità in più. Infatti nella parte centrale della stazione di ricarica avete l'inserimento del sacchetto, sacchetto che si deve cambiare ogni 30 giorni, più o meno che potete trovare tranquillamente su Amazon. Questa è la differenza principale che appunto contraddistingue Omni rispetto a X1 Turbo. Come vi dicevo è un top di gamma, io mi ci sto trovando davvero davvero bene sia in ufficio ma anche nell'appartamento perché tranne quella funzione poi la pulizia è identica. L'applicazione è performante, soprattutto la mappatura in 3D è bellissima. Considerate che io e Flavio abbiamo lo stesso X1 Turbo nei nostri appartamenti e utilizziamo Omni qui in ufficio. Quindi utilizziamo Ecovacs come dispositivi principali per quanto riguarda la pulizia e secondo me la pulizia proprio del pavimento nonché anche le performance della pulizia stessa durante l'esecuzione è da top di gamma. Nella parte centrale della stazione di ricarica avete a disposizione l'inserimento dell'acqua pulita e dell'acqua sporca. Perché avviene questo? Allora, i panni di lavaggio che sono nella parte inferiore del robot sono dei panni rotanti, sono circolari ed è la killer feature secondo me di questi robot perché a differenza degli altri puliscono e puliscono veramente veramente bene. Tra l'altro Flavio ha comprato anche il detergente da inserire nell'acqua pulita così potete anche dare un po' di profumo, potete anche pulire più a fondo il vostro appartamento e secondo me ecco la funzione bella di questi robot. Praticamente voi quando fate partire la pulizia lui inizia a lavare il pavimento quando i panni sono sporchi torna alla base in autonomia, non fate niente, non toccate nulla lui torna alla base e li pulisce, considerate che il mio appartamento è di circa 90 metri quadri e sono 4 stanze, ritorna alla base almeno una volta per stanza, quindi ritorna 4 volte. Poi nel cassone, io chiamo cassone, vagone, chiamatelo come volete, dell'acqua sporca ovviamente quando lui va a riciclare, ovviamente quando lui va a pulire troverete l'acqua sporca quindi dovete andare a svuotarla perché se no chiaramente poi va a intasare tutto. Quindi avete il contenitore dell'acqua pulita e anche lì più o meno io riesco a pulire a fondo due volte il mio appartamento e poi avete il contenitore dell'acqua sporca. Particolarità di questo robot? Sicuramente è performante, riesce anche tranquillamente a salire sui tappeti la pulizia viene fatta in maniera automatica, c'è una webcam addirittura se volete guardare proprio cosa sta facendo il robot, potete programmarla dall'app, potete mettere barriere una delle funzioni che più mi piace di questi dibot è anche la mappatura in 3D voi potete scegliere veramente tutto all'interno dell'applicazione non mi pulire questa parte oppure potete aggiungere in 3D il vostro arredamento questo mobile, questo televisore, questo letto, potete unire le stanze potete dirgli guarda pulisci la stanza 1 e la stanza 2 e magari il giorno dopo pulisci la stanza 3 o la stanza 4 potete suddividere le case in vari piani, cioè potete fare ai ragazzi quello che vi pare dall'applicazione. E poi la figata, io uso anche il robot quando pulisce per vedere cosa sta facendo il mio cane e si può tranquillamente fare come vi dicevo prima con la webcam integrata che è una figata in più come anche una figata la possibilità di programmare la vostra pulizia sono qua in ufficio, voglio far partire il robot a casa, mi raccomando dovete tenere libero il vostro appartamento perché se no se ci sono ostacoli il robot, ieri ad esempio avevo lasciato un cavetto usb mi era cascato è normale che si inceppa però ecco se la volete fare da fuori casa niente vi vieta di farlo oppure di programmarla tipo alle 10 parti con la pulizia completa tramite l'app potete settare che tipo di pulizia ad esempio Flavio lascia tutto al minimo lui pervesce pulire più volte ma a farlo in maniera silenziosa quindi con il minimo della potenza e anche il minimo del lavaggio io ho trovato una combo minimo di potenza per quanto riguarda l'appartamento se lo fate tutti i giorni considerate che io ho un Jack Russell in casa a pelo corto che spela in una maniera incredibile quindi tutti i giorni mi tira fuori delle non lo so, un due o tre etti di pelo e io pensavo che il cane a pelo corto non spelasse invece col cavolo quindi avete la possibilità come vi dicevo di programmare il tutto quindi io passandola la prima volta la prima volta ho fatto pulizia al massimo quindi sia il pavimento sia proprio lo sporco poi adesso ho trovato la combo con pulizia al minimo è bello silenzioso, non dà fastidio dura circa un'oretta più o meno la pulizia con però il lavaggio del pavimento a metà quindi ho fatto questa combo e devo dire mi ci sto trovando veramente veramente bene come dicevo prima nella descrizione del video ragazzi trovate il codice sconto per quanto riguarda il Black Friday con link Amazon di 500 euro quindi questo robot scende sotto la soglia di 1000 euro considerate che costa 1499 l'OMNI che come vi ho detto si autosvuota da sé e scende in offerta a Black Friday a 999 poi comunque vi lascio tutti i link qua sotto nella descrizione del video se ci fossero altre offerte dedicate e poi attenzione perché a fine anno dovrebbe uscire un altro robot sempre di Ecovacs che vi porteremo come sempre qua sul canale la recensione anche per quest'oggi ragazzi penso sia tutto se avete domande me le fate nel box dedicato dei commenti perché non ci sono problemi se io e Flavio abbiamo detto vi ho detto che lo utilizziamo quotidianamente quindi se volete farci qualche domanda più specifica visto comunque il prezzo che non è contenuto di questi prodotti ce la fate tranquillamente nel box dei commenti e anche per quest'oggi dal Guerzone è tutto e ci vediamo prossimamente in un nuovo video ciao a tutti